Oggi la Juve aveva una forza, una vitalità, un'aggressività, oltre alle qualità tecniche che sono assolutamente di primo livello, che sono quelle che probabilmente l'hanno portata ad essere davanti in classifica fino a un mese fa. Ho visto i guai in rincorrere gente come poche volte, come dicevo prima in televisione, oggi probabilmente la Juve, a differenza di un mese e mezzo fa, sta facendo la Juve a 360 gradi. Mi sembra che abbiamo fatto delle partite dove gli altri ci hanno rullato, o se no vedo partite diverse io, quindi è giusto che... Ma la partita di oggi, l'ho detto adesso, cosa devo dire di più? La Juve è stata una squadra oggi, la Juve ha solo vinto sei campionati di fila, ha solo fatto due finali di Champions League, e quindi è chiaro che la Juve per vincere sei campionati di fila ha avuto un percorso di un certo tipo, no? Quindi... E' difficile per capirsi, insomma, probabilmente parla un italiano non all'altezza, che devo dire. Buonasera mister, oggi tra i meno timidi direi Pulgar... Io ho visto una Juve che camminava, come oggi, come il Bologna, solo che la Juve che cammina, con i piedi che hanno, la vincono sempre camminando. Ma abbiamo visto due partite diverse, io non ho visto la Juve che camminava, perché se la Juve di oggi camminava, io allora sono Sherlock Holmes. Grazie a tutti.